A Teramo proseguono senza sosta le verifiche negli istituti scolastici dopo il terremoto dello scorso 24 agosto. Problemi al Comi e al Classico Delfico, con la situazione comunque sotto controllo e già conoscenza e monitorata dalla provincia, come spiega ai nostri microfoni il presidente Renzo Di Sabatino. Il Comi era già oggetto di un finanziamento, abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Reluis che hanno ritenuto opportuno precauzionalmente dichiararlo non agibile. Per quanto riguarda invece il Delfico, anche questo è già oggetto di finanziamento per il quale stiamo lavorando, invece l'inagibilità riguarda l'ultimo piano, che peraltro a noi era già nota, infatti in quel piano non si faceva nulla. Di nuovo rispetto a prima c'è stata la verifica di alcune lesioni vicino alla parete frontale per la quale abbiamo disposto già da adesso di mettere provvisoriamente dei tiranti per far stare ancora più al sicuro i cittadini, non gli alunni, perché ci potevano essere pericoli di stacco di pezzi ma verso l'esterno. Sono tranquillissima perché ho assistito a tutta l'ispezione capillare di tutto l'edificio, quindi fatto in maniera veramente analitica. Prima sono venuti i vigili del fuoco, poi sono venuti i tecnici della provincia e non hanno rilevato alcuna criticità o qui il sopralluogo proprio, quindi non ci sono problemi. Per maggiore sicurezza la provincia ha chiamato la protezione civile, siamo stati qui fino alle 21.30 di venerdì, hanno stilato una relazione, quindi l'edificio è sicuro, è solido, si sviluppa in senso orizzontale, quindi è piantato bene. Alcuni genitori si sono rivolti a lei, sono preoccupati? Devo dire grande maturità da parte dei genitori perché è venuto un genitore, io ho fatto vedere il documento, tutto a posto, insomma non è che sono subissata. Quindi se tutto va bene il 12 primo giorno, da dove entreranno però i ragazzi e sarà traslata l'apertura? A parte che probabilmente termineranno i lavori entro sabato, due ingressi laterali e poi c'è anche, io ho altri tre ingressi, ne ho altri tre, capito? Su Vico del Nardo ce n'ho due e ce n'ho un altro, ma ti stanno controllando tutto bene l'altra uscita, quindi voglio dire insomma non c'è problema, capito? Tranquillamente. Poi io in genere il primo giorno di scuola faccio entrare prima le quarte, e poi gli altri li faccio entrare dopo, capito? Per abitudine, proprio per conoscere questi ragazzi, insomma. Quindi state tranquilli.